Il testo è tratto dal libro Quaderni del 1944 di Maria Valtorta, edito dal centro editoriale Valtortiano. 13 febbraio 1944. Alba del 13-2-1944. Domenica. Dice Gesù. Povera stellina mia, è rimasta sommersa sotto la tempesta di dolore del suo Gesù, nascosta, eclissata, annullata dietro al mio infinito dolore come una stellina dietro il sole. Povera violetta mia, appesantita fino a piegare sotto il sangue del suo Gesù, come le erbe che hai visto intrise del mio rosso sudore nell'orto, sai che t'ho fatto? Ti ho portata all'amore di compartecipazione. Il quale è la perfezione dell'amore di fusione, di cui ti ho parlato in autunno. Ora è primavera, non è più autunno. L'inverno è cessato. I fiori sono apparsi nelle nostre contrade. Sorgi, amica mia. L'amore di fusione è alto. Altissimo, sul vertice di quell'altezza, è l'amore di compartecipazione. Nel primo ti annulli, con la tua personalità umana, nel tuo amato. Nel secondo ti sostituisci al tuo amato, lo circondi. Egli è l'anima, tu la veste dell'anima. E senti in questa tua veste le pene del tuo amore, mentre, nel tuo interno, egli grida le sue torture spirituali e morali, e te le fa note. Così come il pensiero che fa note alla carne le impressioni della mente, e ricevi le impressioni materiali. È l'amore di compassione. Di con passione. Ossia, è la passione vissuta dal Cristo e dalla adoratrice del Cristo. Questo t'ho fatto. E se ti ho introdotta nella stanza dei vini, e l'odore di essi ti ha talmente inebriata da farti cadere come morta, sappi, diletta, che quel vino è il mio sangue. È d'esso che empie la stanza del suo divino profumo, e ti scende con esso nel cuore, sospendendo la vita per una più alta vita. E ti sale con esso al pensiero, dandoti intuizioni e luci non più terrene, ma soprannaturali, ma divine. Perché io sono che parlo nel tuo pensiero, e non vè di me parola più divina di quella che parlano le mie torture di Redentore. All'ombra di lui che desideravo, mi sono assisa. Ma quell'albero non è il melo carico di pomi, ma la mia croce, da cui pende un unico frutto, il tuo Cristo. Ebbene, io ne scendo, ne sono sceso, per sostenerti coi fiori della carità, per confortarti con le mie carezze, perché tu languivi di amore compassionevole. Cara, e t'amo per il tuo amore. Le tue lacrime nell'assistere al mio pianto. Le tue lacrime nel sentire il fischiare dei flagelli. Le tue lacrime nel vedermi cadere contro le pietre. E le altre che spargerai davanti alla mia estrema tortura e alla mia estrema desolazione. Io le ho già gustate. E furono a me, insieme a quelle delle anime a te, sorelle, nell'amore di compartecipazione. Più dolci di un vino saturo di miele. E se erano nel calice che l'angelo m'offerse per mitigare l'amarezza del calice paterno, per corroborare la mia umanità languente in una agonia crudele. Egli, l'angelo del mio dolore, a confortare il mio spirito abbattuto, mi ha enumerato tutti i nomi di quelli che m'avrebbero amato. Totalmente amato, sino a dividere le mie torture. E fra essi era il tuo nome, Violetta, Stellina, Piccolo Giovanni, Maria, Maria mia. Grazie, anima che amo. Sarei andato e andrei più ad agio nell'immetterti nel mio soffrire. Ma occorre accelerare i tempi. Io so. Devo perciò affrettare le cognizioni, anche se queste ti fanno stare tanto male precipitando in te in massa. E se qualcuno dice le parole già dette nel Vangelo E non potrebbe costui, che ha guarito il cieco nato, impedire che questa soffra? Io rispondo Ho bisogno del suo dolore per una grande opera. Mi si potrà anche dire Perché non hai cominciato dai dolori preparatori, Quanto meno dalla cena. Perché non hai terminato con la crocifissione? Io rispondo Avevo bisogno che quest'anima fosse già intrisa di questo pianto Per renderla più atta, più snebbiata, più purificata a vedere il mistero ineffabile Del mio morire per redimervi. All'altare non salgono Non dovrebbero salire Gli impuri ed immateriali Ma se ai vostri altari Essi possono ancora salire Perché voi siete dei ciechi Ed io sono longanime Al mio altare Assistente alla mia messa Non può venire che chi si è purificato Con l'incenso dell'amore E con l'acqua del pianto Ed ha annullato la carne sul rogo del sacrificio Lasciando vivere unicamente lo spirito Seguo dunque il mio metodo Non il vostro E vorrei da parte vostra meno pesantezza nel desiderare certe spiegazioni Su particolari così insignificanti Che hanno valore di curiosità E non di rivelazioni Lasciate in pace il mio Giovanni Non può quest'anima Che vede torturare il suo Gesù Occuparsi e preoccuparsi Di guardare per riferire se Caifa Alla barba quadrata o a punta Se Erode è vestito di rosso o di giallo Se Pilato è alto o basso E dire magari di quanti centimetri è più basso di me Se la sala del pretorio è lunga o corta Quadrata o rettangolare Se voi vedeste torturare la persona che più amate Vi occupereste del primo che passa No Guardereste unicamente il vostro caro O chiudereste gli occhi per non vedere nulla Non guardereste il vestito di una donna La statura di un passante Il naso di un altro A posto Uomini A posto Quando si svelano le torture di un Dio E questo valga anche per le altre rivelazioni Il mio piccolo Giovanni guarda me Guarda Maria Non ha occhi per altro E se può All'inizio di una visione Descrivere l'ambiente o la natura Una volta che io o mia madre cominciamo a svelarci Perde la facoltà di vedere ciò che non è noi E solo noi Per chiarezza vostra Lo richiamiamo su un episodio secondario Come una veste Un gesto Un mutamento di luce Di quanto è sfondo e contorno alla scena Altrimenti il Portavoce Non vedrebbe più nulla Tolti il Cristo o Maria O il Santo di cui si tratta Questo per vostra guida e per tranquillità Del mio piccolo Giovanni Che è già fin troppo preso Preso oltre le sue forze Per potere E d'altronde non potrebbe Averne altre Per soddisfare alle inutili curiosità Ed ora vieni Anima mia Vieni con me Chiudi gli occhi al mondo Ed aprili dove io ti dico E guarda Guarda e riposa Ora è beatitudine Questa sera farò più lucida la visione E la scriverai La mia benedizione È su te Oggi non è venuto chi doveva venire Alle 12 e 30 Quando sono stata certa Che non sarebbe venuto Mi sono lamentata dolcemente con Gesù Ah signore Oggi niente messa alla radio E niente pane Alla mia fame spirituale E lo attendevo tanto questo mattino Per questo e per quella E lui Non importa Bacia la mia mano L'Eucaristia è carne Ma è anche sangue E la mia mano È rossa di sangue E ho fatto la comunione così E sono beata Seguono Dell'opera L'Evangelo Il primo brano del capitolo 106 L'intero capitolo 101 E i restanti brani 2 13 Del capitolo 106 5 8 9 6 10 7 11 12 22 20